Accoglienza in libreria per i turisti che desiderano informazioni su Napoli e sulla sua offerta culturale. Da questa mattina nove librerie cittadine, segnalate da una I arancione sulla vetrina, hanno attivato uno spazio informativo in più lingue per aiutare i visitatori a orientarsi in città e a individuare i luoghi, i monumenti e le iniziative. Il coordinamento del progetto, ideato dal Comune di Napoli, è guidato dalla libreria scientifica di Corso Umberto. La libreria ha una sua caratteristica di cultura, di conoscenza, per cui ci chiedono sempre tante cose. Io credo che possa portarci un po' più di pensore, possa far conoscere di più le nostre realtà e magari vendere anche qualche libro sul Napoli. Noi abbiamo un bel assortimento sulla città, cerchiamo di avere i libri della città e quindi come tale poter vendere qualcosa in più. La prima cosa che io cerco di spiegare alla gente è dov'è il mare, per orientarli. Il tessuto culturale di questa città passa attraverso la memoria e la memoria passa attraverso le pagine dei libri, quindi io credo che è importantissimo far sì che le librerie abbiano ancora un ruolo più centrale in quello che è poi l'economia culturale turistica della città. Per questo avvio sono nove le librerie attrezzate con gli infopoint turistici. Oltre alla libreria scientifica ci sono Dante e Descartes in via Mezzocannone in Piazza del Gesù, Colonnese in via San Pietro a Maiella e in via San Biagio dei Librai, Ubic in via Benedetto Croce, la terza a Gorà nel teatro Bellini in via Conte di Ruvo, Io ci sto in via Cimarosa e Vitanova in via Legramci. A queste si aggiungeranno presto i punti vendita della Feltrinelli. La libreria nelle città è più di una luce, significa tante cose, significa dare informazioni, scambiare idee e far circolare le idee e quindi questo è utilissimo per questo point della città, questo accesso, un introibo alla città di grande suggestione culturale. Un atto di sensibilità verso Napoli in un momento in cui il turismo ha raggiunto dei significativi picchi che noi vorremmo consolidare. Noi pensiamo che questa iniziativa possa essere utile perché dotiamo Napoli di strutture di cui prima era un po' carente rispetto diciamo alle altre città turistiche che avevano questi point informativi per i turisti. La rete degli info point in libreria sarà divulgata agli operatori turistici e alle strutture ricettive e sarà promossa sui canali ufficiali del comune. Facciamo leva sulla cultura, sulla sapienza dei nostri librai, sull'articolazione anche diffusa sul territorio di questa rete. Qui si può avere nel confronto con il liberaio anche uno scambio su come proseguire il proprio viaggio, come arricchirlo, come renderlo più affascinante incontrandosi con la storia e la cultura di questa città perché non dimentichiamoci che la stragrande maggioranza dei viaggiatori che scelgono Napoli lo fanno proprio a tratti, affascinati dalla sua storia culturale universale.